Ciao ragazzi siamo su Worms, il terzo episodio della serie I need to blow all three diggers up No doubt the noise will alert the guards So I need to keep my eyes peeled But you have no weapons Not a problem, there's some in this crate And more will be teleported in later It's all under control Allora, dobbiamo far saltare queste tre scavatrici Con la TNT che troviamo nelle casse Perché non abbiamo armi Però le esplosioni potrebbero svegliare i soldati Andiamo via da qua Prendiamo saltare l'assa Andiamo da quell'altro scavatrice Ok, mettiamo questa E andiamo via Adesso dobbiamo far saltare quell'altra Sali su Sali su Sali su Sali su Ok Sali su E Mettiamo l'altra TNT E la terza è scoppiata E la terza è scoppiata E questi che buono Let's make him pay And I don't mean with money You couldn't spot a criminal In a one man ID parade You missed No, mi ha preso Ehm Prendiamo queste Gli mandiamo L'attaccare Alla testa d'est Attaccare E Direi così Così Vingo Sierra Oscar Sare Sare Mata È morto Sare 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 ahahahahah invece a quest'altro gli tiro una bazzucata facciamo così ok preso hai distrutto i diggeri e hai scelto l'invento success ufff